Jasmine Carrisi è gelosa di papà, e delle attenzioni che riversa alle sorelle. Una nuova crisi starebbe per investire Cellino San Marco e Albano dovrà trovare il modo per placare le acque. Gestire una famiglia allargata fatta principalmente di donne per Albano Carrisi non deve essere stato semplice per Albano Carrisi, soprattutto adesso che anche Jasmine comincia a cercare il suo posto nel mondo dello spettacolo. La prima figlia nata dal rapporto con Loredana Lecciso ha pubblicato un post su Instagram che arriva qualche ora dopo la diffusione di alcune foto da parte del settimanale Oggi. Uno degli errori più grandi dei fan di Albano e Romina, forse, è sempre stato quello di schierarsi dalla parte della pover, e di Loredana Lecciso, alimentando l'idea che esista una famiglia di serie A, e una di serie B, anche se nel cuore del cantante di Cellino San Marco questa differenza non esiste nel modo più assoluto. La pubblicazione da parte della redazione di Oggi che mostra Albano sempre più vicino a Romina e Romina Junior potrebbe aver alimentato alcune gelosie da parte di Jasmine Carrisi. La figlia di Loredana Lecciso che in occasione dell'intervista rilasciata a Vieni da me ha dichiarato desideravo una famiglia normale, deve fare i conti con quelle che sono le esigenze delle sorelle maggiori. Punto di domanda crisi profonda tra sorelle a Cellino San Marcoore dopo la pubblicazione delle foto che ritraggono Albano insieme alla figlia Romina Junior, virgola Jasmine ha pubblicato un post su History e dove si legge la seguente frase preferisco la sincerità di un silenzio all'ipocrosia delle tue parole aperte virgolette. A chi è riferita la frase condivisa sa Jasmine Carrisi? Che si tratti di una frecciatina lanciata a Romina Junior che al momento, ha concentrate su di sé le attenzioni del papà Albano spesso in viaggio per lavoro? Albano Carrisi, a quanto pare, a breve si potrebbe trovare costretto a fronteggiare una nuova guerra tra donne che non sarà animata da Loredana Lecciso e Romina Pover, ma bensì da Romina Junior Carrisi e la sorella Jasmine. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.